Il numero di maglia di Martina Rosucci 8 E beh Linus è il mio numero di maglia, scusa C'ha ragione, c'ha ragione Allora vediamo l'altra Il mese di nascita di Daniela Sabatino Giugno Eh, ho capito Mica mia, 26 giugno è nata Vabbè, verticale Allora, è la città di Agliaguagni Questa la so io No, però è compagna mia di squadra Vabbè, però Firenze Lo sai anche se Capitano, eh, Firenze Vabbè, vabbè Allora, vediamo quest'altra verticale Il più bel paese del mondo Italia Vabbè, in effetti su questa c'ha ragione Mi hai proprio presa sul tempo Allora, l'ultima Orizzontale Lisbona ne è la capitale Ho capito, però Cioè, eh Volei farlo te questo cruciverbo? Ma tu guarda le risposte 8 giugno Firenze Italia-Portogallo Ah Ok, ok Beh, in effetti È una partita abbastanza importante Voi ci sarete? Io di sicuro Venerdì prossimo Italia-Portogallo Vi aspettiamo Voi ci sarete? Voi ci sarete? Voi ci sarete? Voi ci sarete? Voi ci sarete?